mister domani di nuovo in campo torna il campionato e arriva un casalbordino che fuori casa sta avendo numeri da da grande sì assolutamente si è una squadra che fa dell'organizzazione non solo difensiva però anche difensiva il suo punto forte perché ha dei giocatori molto veloci nelle ripartenze molto veloci bravi dell'uno contro uno e noi naturalmente nel tentativo di vincere la partita dobbiamo essere anche bravi a stare attenti a questo tipo di situazioni comunque veniamo da una settimana positiva la partita di coppa c'è dato altro minutaggio e una vittoria che fa sempre bene al morale è chiaro che il campionato un'altra cosa bisogna cercare di fare i tre punti domani tornando quindi alla gara di coppa ora la vittoria si inizia a vedere un po l'idea di gioco di mister lucarelli ma no ma l'idea di gioco in realtà è semplicemente non avendo riferimento come già spiegato come luca cognini che ha delle caratteristiche uniche nel nostro gruppo i ragazzi sono bravi a cercare altre soluzioni quindi stiamo semplicemente facendo un'altra strada percorrendo un'altra strada per arrivare poi a fare gol è un po più articolata sicuramente però i ragazzi hanno dimostrato di volerlo fare di poterlo fare su luca cognini è arrivato il risultato del dell'esame ha rassicurato un po tutti domani non ci sarà come non ci saranno né marco fermo e né eh Bertino sì loro stiamo in attesa che recuperano pian piano però senza forzare perché in questo momento è importante recuperare del cento per cento e non anticipare o accelerare qualsiasi tipo di recupero perché altrimenti poi ci può stare una rigaduta e poi lo stop diventa ancora più lungo quindi l'obiettivo è di recuperarli per bene l'importante che la squadra continui a cercare di vincere le partite e deve riuscire a vincere le partite per la squadra continui a cercare di vincere le partite e deve riuscire a cercare di vincere le partite